vai che li bruciamo dai lotte frank bravissimi ma cos'è sta roba? ma che schifo? ma che schifo? ma che roba? ma che schifo? ma che roba? ma che schifo la potata è una roba schifosa non abbiamo più voce dai stavamo andando in avanti ma è impottato e allora ho dovuto reagire un fallo di reazione questo qua giusto ci stava